Sono importanti tutte le partite che affrontiamo e sono tutte finali perché altrimenti si fa fatica perché abbiamo lasciato tanti punti indietro, quindi adesso dobbiamo continuare quello che stiamo facendo di buono ultimamente e cercare però di vincere. Partite tutte importanti, tutte finali, ma quella con il Bologna in un certo senso è già decisiva. Forse non si può più rimandare l'appuntamento con la vittoria? No, 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 dobbiamo vincere assolutamente. Dobbiamo vincere, però noi abbiamo solo un obiettivo, quello di vincere e basta. No, ogni tanto pensi a quello che hai fatto, quello di buono che hai fatto e quello che hai sbagliato e ti viene un po' di rammarico che ultimamente hai lasciato qualche punto che potevamo conquistare. Però purtroppo non si può fare altro che cancellare immediatamente, dopo il pensiero, cancellare e pensare solo alla partita con il Bologna e alla vittoria e basta. Dobbiamo dare il massimo di noi stessi, dobbiamo cercare di fare questa impresa e mettercela tutta per farla. Ci vuole, sappiamo che abbiamo delle difficoltà, le abbiamo avute perché se no non eravamo in questa classifica, però non bisogna guardare indietro, abbiamo queste otto partite e bisogna darci fiducia e credere in quello che andiamo a fare. E con una grande determinazione soprattutto. Dare il massimo e non guardare indietro, però è giusto ricordare una cosa. Tu l'anno scorso hai fatto una finale play-off stirato, adesso c'è una partita che conta come una finale e anche stavolta tu stringerai i detti perché non sei al 100%. L'anno scorso ho fatto le ultime quattro partite stirate. Sì, pensavo alla finale allora e alla finale adesso perché penso a questa partita come una finale. Questa per me è una... io penso anche ai ragazzi l'abbiamo preparata come una finale. Sì, non sto al 100%, ho forte dolore, però non è il momento di tirarsi indietro, non me la sento. Poi se giocherò o non giocherò dipenderà da torri. Sto facendo di tutto per tirarmi via almeno un po' di dolore, ma anche se non vedo tantissimi risultati, però io ci voglio essere e ci devo essere. O dalla panchina o dal campo non è un problema. Tu ci credi a un Bologna che arriva qua comunque un po' più scarico? Io penso che Bologna voglia fare una bella partita e voglia vincere. Perché chi va in campo difficilmente va in campo per fare altre cose. Quindi noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e poi se arrivano più scarichi meglio per noi.